inclusivo come tipo di proposte e qui giochiamo con la trasparenza, con la trasparenza ma è volgare, con la trasparenza che possiamo indossare tono su tono con un intimo, oppure non volessimo usare con la trasparenza, questo lo mettiamo anche su un abito smanicato, lo mettiamo anche sopra una canotta, lo mettiamo come sottogiacca, insomma le opportunità sono veramente... Non mancano. Non mancano. Anche questo è quel capo che secondo me acquisti ben volentieri con i saldi. Sì, perché è quello il capo sfizioso, è quel capo magari in prima investi su altro, però poi questo è il capo un pochino furbo che...